Ristretto italiano. I media internazionali scrivono di noi. Buongiorno. Trissi e ristretto quello di oggi. Gli articoli sulla morte di Gianluca Viali si sono moltiplicati a decine in tutto il mondo sin dai primi momenti successivi alla notizia del decesso. E tra i primi assoluto a dare la notizia ho trovato la CNN. Il football italiano saluta Gianluca Viali, il grande calciatore e morto all'età di 58 anni dopo quello che ha descritto come il suo viaggio con un compagno di strada sgradito. Così una delle più note reti satellitari al mondo, come vi dicevo, che ricorda come in questi cinque anni Viali avesse reso pubblica la sua battaglia personale contro il cancro che lo aveva colpito al pancreas. Dopo brevi periodi al Chelsea e al Watford, ricorda ancora il network americano, Viali passò dietro le quinte della nazionale italiana insieme al suo ex compagno di squadra nella Sampdoria Roberto Mancini e insieme vinsero Euro 2020. E dopo la finale, quando l'Italia vinse sull'Inghilterra ai rigori, il difensore azzurro Florenzi ebbe a dire tutti devono saperlo. Abbiamo fra noi un esempio che ci insegna a vivere in qualsiasi momento e in qualsiasi situazione. Da Londra, città dove Viali aveva scelto di vivere e dove ha cessato di vivere, fa eco il Daily Mail scrivendo che il suo più grande merito è stato quello di mostrare il suo volto a tutti mentre soffriva, insegnando rispetto e dignità perché le malattie non sono cose di cui vergognarsi. Il Mail scrive ancora che nella sua posizione, con i suoi successi, Viali sarebbe potuto essere un uomo pungente, un uomo snob, avrebbe potuto tirarsela, come diciamo noi, e invece era pieno di cuore e di emozione. The Guardian, sempre da Londra, cita le parole della Sampdoria che ha scritto sul suo sito «Ci hai dato tanto, ti abbiamo dato tanto, è stato amore reciproco infinito, come ben sai sei meglio di Pelé e per questo continueremo ad amarti e ad adorarti. Gli eroi sono tutti giovani e belli e tu, da quell'estate del 1984, sei sempre stato il nostro eroe». Al Jazeera titola «È morto a 58 anni la stella del calcio italiano Gianluca Viali» e ricorda il documentario Netflix del marzo scorso quando lui parlò della sua esperienza affermando che la malattia può insegnare molto su chi sei e può spingerti ad andare oltre il modo superficiale in cui hai sempre vissuto. Come tanti altri, poi Al Jazeera pubblica la foto del celebre abbraccio sul campo con Roberto Mancini agli europei di Londra, la foto che tutti ovunque hanno messo sui loro siti e sulle pagine Facebook. Era una delle leggende italiane, scrive da Parigi Le Monde. Il quotidiano parigino ricorda che di lui, che aveva appeso le scarpe al chiodo già nel 1999, rimarrà soprattutto il ricordo del periodo alla Sampdoria dove brillò al fianco del suo gemmello di gol, Roberto Mancini. Articolo e foto poi sulle Figaro, sui giornali tedeschi, con la Bild, per citarne solo uno, che titola «È morto Gianluca Viali, leggenda del calcio italiano». Da Barcellona, Marsa scrive come calciatore Gianluca Viali ha realizzato quasi tutto ciò che un attaccante può sognare e ricorda il suo periodo glorioso al Chelsea. E mi fermo qui. Anche, se come ho detto in apertura, potrei andare avanti per ore, dal momento che nessun giornale nel mondo letteralmente ha tralasciato di rendere omaggio all'uomo e al calciatore. Ad ogni modo, parlando d'altro, «Questi italiani che non piangono il Papa», titola Radio Canada che spiega «In un paese dove il cattolicesimo è in declino, la morte di Benedetto XVI ha lasciato molti indifferenti». Certo che l'inviata canadese Jasmine Maddy non ha cominciato la sua inchiesta dal luogo giusto, facendo le prime domande alle persone che ha trovato nei bar del Pigneto, che è il quartiere trendy della Roma alternativa. A soli sette chilometri da Piazza San Pietro, scrive, «I funerali del Papa sembrano lontanissimi». E la prima domanda la fa, davvero sgamata, a una giovane lesbica e buddista mentre rolla una sigaretta in un bar di libreria. Non sapevo nemmeno che fosse morto finché qualcuno me lo ha detto qualche giorno dopo. Le ha risposto infatti l'intervistata, che ha confessato di essere comunque battezzata e di essere stata cresciuta in una famiglia molto religiosa. Poi è la volta di un ragazzo dichiaratamente agnostico che le spiega, all'intervistatrice, come a suo vedere la religione sia una questione soprattutto culturale. Successivamente la collega capisce, lascia il Pigneto e raggiunge in Vaticano il corrispondente della rivista cattolica francese La Croce, il quale le spiega come la tendenza sia reale e come stia cambiando l'intero Occidente incidendo sul rapporto col Papa, le istituzioni, gli organi costituiti e le autorità. E abbandonata la discussione sulle poche lacrime per Ratzinger, le spiega come Papa Francesco, percorrendo una strada del tutto diversa rispetto a quella del suo predecessore, si è entrato più a gamba tesa nelle questioni italiane, criticando più o meno esplicitamente la destra attualmente al potere. A rischio la spina dorsale del business italiano del turismo invernale. Il titolo è della testata bulgara di viaggi trip che nell'articolo parla dell'incontro che i rappresentanti delle regioni appenniniche dell'Italia centrale avranno a mercoledì prossimo con la ministra del turismo per definire aiuti straordinari vista la praticamente totale assenza di neve fino ad ora. Allo studio ci sarebbe anche un nuovo sistema di impianti di innebamento artificiale con un fondo dedicato. Ora un salto nella vicina Ungheria dove RTL si occupa dell'architetto italiano di Putin, Lanfranco Cirillo, che da tempo si è stabilito a Mosca e al quale l'Italia ha, diciamo, chiesto di tornare dopo aver emesso contro di lui un mandato di cattura per fronte fiscale. Nei mesi scorsi l'Agenzia dell'Entrata gli sequestrò 140 milioni di euro. Il processo comincerà il 23 febbraio a Brescia. Lui, che nel 2014 ha ricevuto la cittadinanza russa dopo 20 anni di residenza a Mosca, ha cortesemente, elegantemente risposto Marameo. Per chiudere, ecco le regioni dove emigrare se vuoi avere fortuna. La indica ai suoi lettori un periodico argentino ambito. Coloro che pensano di emigrare, scrive l'articolo, tengano conto che il mercato del lavoro è essenziale quando si sceglie la destinazione. Quindi, se si parte per l'Italia e sono molti gli argentini che pensano al nostro paese sia per la ricerca di personale qualificato sia per l'affinità linguistica, se parti per l'Italia considera che le regioni del nord sono quelle con il maggiore numero di industrie comprese quelle più importanti. Ed è noto anche per l'ingegneria automobilistica da considerare città come Torino, Milano, Bergamo, Trieste e Genova. Le posizioni più richieste sono nei campi dell'industria pesante, del farmaceutico, del marketing, dell'ingegneria, della salute. Nel centro, cerniera fra il nord industriale e sud agricolo, le opportunità occupazionali sono soprattutto nel campo della gastronomia e del turismo, considerata la grande concentrazione di località d'arte. In Toscana si trova lavoro nei vigneti. A Roma soprattutto con una buona conoscenza dello spagnolo e magari anche dell'inglese nel campo del turismo e dei servizi. E poi c'è il grande sud dove si lavora in agricoltura, nell'allevamento e nella trasformazione alimentare. Giusto per farci venire qualche idea anche a noi. Qui vi saluto, vi auguro una buona domenica, davvero l'ultima festività di questo lunghissimo periodo 2022-2023. Io vi aspetto lunedì mattina, sempre con Ristretto Italiano. Ristretto Italiano di Ruggero Po.